10.000 like in 48 ore e durante la notte vi faccio la ceretta a tutte e due giuro bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi sono quella piccola bea dove stai andando dov'è che stai andando aia piano mi fai male oggi siamo quella piccola bea perché stiamo andando a fare un po di compere perché oggi ragazzi metto a dura prova con l'estate dei miei compagni sapete che sono in casa della stream house con Tecnoid, Musa e Moni oggi vi voglio fare la dura prova perché vi darò un compito abbastanza semplice ma che ne chiede un po di onestà perché vi permetterò di farmi la ceretta ragazzi voi avete visto i video precedenti delle cerette come vanno a finire e oggi io seriamente gli dirò per favore mi potete fare la ceretta perché sono messo abbastanza male nella schiena non so se avete visto dalla copertina però non è stato abbastanza male e quindi oggi vado a comprare insieme alla piccola bea chiaramente vado a comprare la ceretta a strisce e poi me la faccio fare da Tecnoid, Musa e Moni vediamo come cazzo viene da questa cosa ma ne faranno un brutto brutto scherzo ragazzi molto molto brutto perciò non perdete il video vi ritiro noi chi è bea? un cagnolino? è un altro cagnolino? è fattivo tu vuole morte? andiamocene via dai è cattivo bea spiegaglielo vieni qua bea seduta amore? sei seduta? bea? ehi seduta? 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 tappi si zia ta uffro lo scemo non ha capito che questa quando cresce ti mangia il cranio ti mangia ti morde oh ragazzi la bea è troppo bella però eh io con lei mi sto ascialando ragazzi vado sul treno dovete vedere com'è brava quando andiamo sul treno non sta fermo un secondo vero bea che non stai fermo un secondo? va ovunque ragazzi va ovunque passa qualsiasi persona gli lecca le caviglie gli fa di tutto è insopportabile è diventata vero piccola bea? andiamo un po' nell'area cani andiamo dai andiamo un po' nell'area cani intanto che aspettiamo fratello Mone andiamo facciamo il gioco del bastone ok? non quello che c'è in mezzo alle gambe mi raccomando allora io ti lancio questo oh a me oh mi devi guardare bea guarda qua lo vedi questo? io ti lancio questo ok? e tu lo prendi vieni qua stop mi caga di striscio sto cane non mi caga di striscio bea vai l'ancio assurdo che ti ho fatto bea è difficile eh e ora me lo devi dare ma anche te lo puoi tenere veramente è molto meglio così eh aha gente ma MIA I MA 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 Oggi ti devo fare oggi mi devi fare una cosa importante eh fratello ti see ti fa ti do un compito importantissimo cos'è? Vi dovete fare la ceretta Ma ci pensi, ci pensi, Fran Hai visto? Non so che anzi tui Io guarda che... No, però seriamente In un'altra vita io volevo fare le cerette alle persone, io, eh Sono bravissimo Stesista 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 Andiamo a prendere tutto, dai Andiamo a prendere tutto Andiamo, 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 andiamo Ok, let's go Allora, siamo arrivati al supermercato Adesso, fratello Dicca una cosa I ladri Il ladro non può ruper il ladro È diversa la stessa È impossibile È impossibile Tutta Bologna l'ho arrivato io Tutta Bologna Cori, corri, corri, corri dietro Pia, pagalbe, piglia, piglia Giuro che pagalbe Striscialdi, striscialdi Pia, 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 striscialdi Eh, ma piglia il carrello, però Il carrellino Eh, il carrellino quello piccolo Dove ci sono le casse Allora Prima cosa compriamo la ceretta Poi dopo compriamo tutto quello che ti serve Andiamo Sì, nei detersivi Sì, nei detersivi Ti pare che c'è la ceretta qua Doviamo fare con l'acido muriatico? Ma dopo la ceretta voi lecchi Guarda che belle Voi queste per dopo la ceretta Guarda che gambina Che abbiamo qui Guarda lui, si è sposato la sedia La gamba stavo guardando Non mi stavo guardando Faccio di ceretta? No, 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 no Vediamo, vediamo Oh, questa qua, questa qua Eccola Questa? Le strisce, vai, vai Eh, più di una Più di una, vai, piane due Due? Le strisce sono Ok Ok, dici che basta, no? Ma dai, su Tutta la schiena devo fare, eh Tutta la schiena? Ma un altro Ma un altro Ma un altro Che se ne fai Beh, beh, amore La mano mi stai tirando tutto Amore, di fronte Mamma mia Tu vedi? Ah, te, papà Potevi, non puoi si può più C'è tec adesso a casa? Sì, c'è papà tec C'è papà tec C'è papà tec C'è ram tutto Tutta ram Cane ram, yala ram Birra ram, fumare ram Tutta ram, cavolo Ma i cronetti delle Delle Nutella Questi sono buoni, eh Ah, i cani, eh Dammi qualcosa No, fra Mi hai fatto il suo cesto Fra, devi fare la clip Fra, ti devo prendere in braccio Ti devo prendere in braccio, zio A me mi devi prendere in braccio o lui? Ma è grande Non c'è Non la faccio a prendere in braccio È grosso Vabbè, prendi in braccio il cane Perché ti vloggo io, va là Sai che ti dico una cosa? Questi, io in carcere, ragazzi Questi, li mangiamo come non ci fossero domani Ma perché sei stato in carcere? No In carcere è a carcere Mangia No, no, ma che Basta, non ci ha faccio più Oh, prendi da mangiare Basta, ho preso il gelato, Fran Solo gelato Io ho voglia di gelato Perché costruendo il bunker Mi serve il gelato Guarda, andiamo Oh, oh, ma c'è la Red Bull Dove hai trovato questa? Basta Tieni, tieni così Cioè, fresca, fredda No, fredda, bro I ram sempre, bro Appos Ma quante ne hai presi? Stai tranquillo Ma quante ne hai presi? Devi stare sereno Sta roba è usco Guarda che non è una supposta questa Coglione che sei Tre Red Bull, tre Mostra Questa ancora, ancora Lascia, lascia Quella Mostra 3 è una bomba quella lì Ma non mi piace Ma che cosa è verta? Vero che è buona? È buonissima Bravo, quella lì È la più buona che c'è fra tempo Non capisci Che belli gli occhi azzurri A me sono belle quelle là Sono troppo figo Vieni, vieni Vieni, striscia la carta Comprata dove hai comprato Ma te le tieniti in bicicletta questa, è vero? Sì, sì, è normale Quella non è una bicicletta semplice Quella è una macchina seria Ma come mai ti porta a te in giro Mi può stare in teori in più? È così Sai quando ho sentito che tu stai andando qua? Hai detto Fammi andare a scroccare Fammi andare a scroccare il gelato delle reti Ci abbiamo la carta in via Friscia Oh, Bologna T'hanno rubato la bici Bologna City Brian Sand, bro Tieni il gelato? Sì Lo voglio Vai il gelato, tieni Ti do quello aperto Grande È come una supposta Perché io lo amo L'hai leccato? No Vai, Paolo Non mi lasciamo niente Mangiamo prima tutto Poi dopo Dopo alla fine Andiamo a scroccare Vuoi un gelato? Grazie mille Tieni Gentilissimo Vieni che se no si scioglie 50 euro Dai, dacci ciò 50 euro 50 euro, scusa Ce li avessi Vabbè, vanno bene anche 20 No, no Meno 20 Bella va bene Allora, dai Ciao Ciao Ciao, bello Andiamo a regalare un altro gelato, vaga Intanto fa calve E io vado Con il mio culo Regaliamo i miei gelati Ci fanno il supermercato, Mone Tu vuoi il gelato? Vieni Vuoi il gelato? Vuoi il gelato? Vuoi il gelato? Vuoi il gelato? Sì, mangiate Oh, oh, bella Bella Posso uno, bella Vieni, hai spettato Non mi sto pensando Volete mangiare un gelato? Vieni qua Tieni Dai il gelato È un maschio Non puoi mangiare? 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 Non è che ce l'avete quindi Una sigaretta Una sigaretta? Noi non fumiamo Ma sei minorenne Non puoi fumare Veramente Ma è lì, ma ce l'ho io Un minorenne che fuma E veramente non si può vedere Ero senza Io arrivi a 30 anni Sei morto Esagerato Oh, fratello Va che la seretta è una cosa seria Non fate gli scemi Perché Non fate gli scemi Va che ve lo dico Vi distruggo Vi distruggo la stanza Allora, siamo arrivati In stream house, ragazzi E adesso vado dentro da Che cazzo mi ha lasciato? Il sacchetto vuoto Mi ha detto è qua fuori Ma mi ha lasciato il sacchetto vuoto Ma ne è vuoto il sacchetto Ah, davanti alla finestra Ah, io sono scemo Capito? Porca Eva Quanto pesa 20 euro in più Mi hai fatto spendere Cretino Fratello Usa Oggi È una sfida Che vi faccio a voi Ok, per vedere Quanto siete onesti con me Non siamo onesti È già uno spoiler? Sfida è finita È già uno spoiler? No Mi devi fare la ceretta Tu, Tec e Moni Mi dovete fare la ceretta Bomba Bomba con Lo faccio anche adesso se vuoi Sì, adesso tu me la fai la ceretta Dove vuoi? Dai peli così Li faremo diventare così Perché poi io non me la faccio Seriamente Ma io a te dove andiamo parlando No, Zegno A me non cresco Infatti questa cosa qua Non mi dà Ne a me Guarda qua Guarda qua Guarda qua Mi riprendi Cioè ti rendi conto Ma che schifo bro Ti rendi conto Cioè e tu sei così? E c'hai anche il p***o grosso? Sono il Super Saiyan Il pre-scelto Sì, sì, sì Qua sì Ma ce neanche Ti volevi fare Ti volevi far male? Mi vendi con l'uovo Tranquilla Mi sbagliato Non volevo Ci vediamo fra un po' Oh È per te Dobbiamo fare la ceretta Dai Dai ai professionisti Questa 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 No ma serve a lui Che a me? No, no A te serve Io non ho peli Oh Dai Scemo Non c'ho peli Oh C'erli ho solo sulle gambe Ma li voglio E dobbiamo tirarli via Ma che tirarli via? Dobbiamo tirare via i suoi Che devi vedere il culo? No, questa qua è per me È per te No, aspetta Fammi un 360 Fammi un 360 No, no, no Allora, aspetta Guarda, guarda Oh, il fisico è top Intanto il fisico Ah Le ha strappate Vieni, 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 vieni Che adesso vedi che ti dico Ah Ah, la scossa ho preso Ma che scossa sto prendendo? No, no Vabbè, fra No, fra Sei andato Ascolta Sala operatoria Vieni, vieni, vieni Sala operatoria Vieni Che c'ho? Ma sei tu che c'è qualcosa Che c'ho Ma non è che c'è Ah Venga, venga Prego Vada, vada, vada Non sono levato Pochissimo Vieni, vieni qua Vieni, vieni qua Sdraiti, sdraiti Vieni, vieni sotto Traiti, che adesso ci pensiamo noi Ma ancora non lo dovete far fare Ma non ti facciamo male No, vieni, facciamo la sede Vieni, facciamo la sede Vieni, vieni, vieni Se fa male, se fa male Non fa male, così non lo so Vieni, vieni Vieni, vieni Vieni qua Stai tranquillo Ah, ah Dove hai fatto mettere dentro quel cuscino? Sì Ah, no Ah, no Vieni, bravo Vieni, bravo Vieni, bravo Grazie Bravissimo Bravissimo Allora Allora Prima, le attacchiamo tutte, ok? prima le attacchiamo tutte prima bisogna attaccarle tutte e poi bisogna scaldarle ma devi andare con tropele devi andare hai capito bisogna farti di scadlo sei pronto? sei pronto a questa bola? dall'altra parte ancora non sono pronto raga dovete fare dall'altra parte ma l'hai messa più al contrario ma l'hai messa più al contrario ma l'hai messa c'è vai 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 mi filmi bro ma per che ti sei in fila? perché devo andare dall'amante oggi nooo cosa hai messo in filo? amante che amante? me lo sto scherzando per mia moglie questa fra questa fra era tosta scaldi 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 per la scaldi ho tutto tuffato ah per favore devi stare più tranquillo oh ascolta rilassati che c'è Bea capito vai rilassati guarda pure il mio tra qua ah lì l'hai già appaccata ah no 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 c'era un boschetto ragazzi eccoci qua è bellissimo è tutto il video quello eh oh mamma mia oh mamma mia quanto c'è da dire oh mamma mia quanto c'è da dire ma non passeranno tutte queste eh oh oh nella accelle nella accelle dopo no 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 si deve seccare I coni! VIANCI! Dai tranquilla.. Stai, tranquilla... Oh, uno è una cosa di liberi? Che tornavano una cosa di liberi? Vai, io mi fraccio! Scusi! Scalta per me lo capisco! Oh. Scalta, scalta! Vai, vai! Eh, in lacrime non basterà! Non basterà... Oh, sono tre! E' tranquillo! stai giù stai giù rilassati rilassati no 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 dai ma per qua no qua è il top no fra dai dai fra lì no non usano le gambe no proprio così zingua questa è un'altra qui sotto non usano le palline no 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 non usano così no 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 fermo hai voluto fare la cosa stai giù stai giù stai giù stai giù oh 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 o ah mi piace guardate la bronzatura oh ma stai sudando è sempre bene si è pronto è pronto dai tu via dai tu via vai tu via via che monstro che monstro raga a vita propria sto coso che monstro no ma è assurdo da finire no 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 queste manca una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci a di noesis non ti permette comeē 급 comentabe estadkamer,a tedisca è ... stai ... ore vieni o si che lìghiamo o ti lìghiamo ma sei tranquillo puoi farle spalli va bene te li facciamo Vieni! Ma ne puoi fare bene per piacere che non stai tirando i piedi? No, 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 stai tirando i piedi! Dove me la metti? Stai tranquillo! No, eh, Fra, ma perché sei pieno? Questa è come voi, questa qua sopra? Oh, carloia! Che male! Beo, questa è piena! Sto casando sta roba, possiamo farlo spesso? Dieni, dieni! Vieni, no! Dai, grazie! Dai, grazie! Hai tanti da fare, Fra! Ma sei troppo peloso! Ma sai che se me la fine prenderai i piedi? Vieni, tra la dito! Ma perché? Vieni, tu vieni! Lasciami sarà questa qua da spalla qua Ecco, così li faccio bene, Fra! No, i capelli! Lasciala qua! I capelli, adesso! Questa con l'acqua, Fra! Dopo, alla fine! Lasciala lì! Questa con l'acqua la tagliamo dopo, Fra! Si, però devi star fermo! Si, però devi star fermo! No! Mi stiamo aiutando! Mi stiamo aiutando! Mi stiamo aiutando! Mi stiamo aiutando! Un aiuto di... Non toccare! 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 No! Oh! Oh! Dai, che fa un po' quell'altro! Sono venuta qui! Dai! Però, Fra! Non si levano! No! Anche dai troppi! Alza! 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 Alza però! Aspetta! Vieni qua! Oh! No! 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 Vea! Ma ti puoi spostare che ero un po' le ponte? Vea! Fuori! Si è fatta a curire la branda, la branda pure, si è bolla, sta passando, bella, poi te tu sei anche se chiuso di male! Vieni, dove vai? A guarda pure, dai, a guarda! Vieni! Vieni Paura, lo scopro, Poi, Rosso, Bello, prendilo! Prendilo, no, prendilo! Prendilo, Bello, prendilo! Naccare di cazzo, Vieni, Vieni! Vieni, Bello, prendilo! Vieni, no, è morto, oh! non so non so ultima luce anche Bea non devi mordere questa fra è l'ultima tua palla è l'ultima tua palla stai in buio stai in buio stai in buio stai in buio manca tutto aspetta che ti tolgo questa va bene tutto non è la norma aspetta questa va bene tutto non è la norma è tutto prestigio ma perchè stai prendendo tutte queste cose? perchè è la tuta che è elettrostatica ok vieni qua 3 2 1 va bene va bene ma non senti più dolore ma c'è sangue? sono pezzi di sangue ragazzi vuoi continuare che ce ne sono altre 10 ma tu ci hai chiesto di farvi la ceretta guarda mamma mia ragazzi 10.000 like in 48 ore 10.000 like in 48 ore ma perché stai scappando? e durante la notte gli faccio la ceretta a tutte e due giuro mi sta piacendo dai per favore dai per favore ehi ehi nooo oh vieni qua che scoglie aspetta ma ero nascosto il bastardo aspetta la notte io la metto questo nel culo ti do mentre dorme Grazie per la visione!